Siamo qui con Lomonaco dopo la vittoria per 3 a 0 del grifone gialloverde contro il pescatori Ostia innanzitutto un grande assist per il terzo gol come giudichi la tua prestazione e ti chiedo se l'allenatore ti ha chiesto cosa ti ha chiesto quando sei entrato no la prestazione la giudico sufficiente non è stata ottima perché comunque non è diciamo entrare in campo su un 2 a 0 con 10 uomini per la scuola avversaria non è facile poi il mister mi ha detto stai tranquillo tanto la tua esperienza ce l'hai venendo dall'eccellenza e io sono entrato convinto e ho fatto ciò che il mister mi ha chiesto ovviamente avevo l'opportunità di tirare però far gol un mio compagno è sempre un qualcosa di gratificante anche Con questa vittoria vi proiettate adesso nelle zone nobili della classifica siete secondi a meno 2 dalla vetta dove può arrivare questa squadra e cosa serve per dare continuità a questo rendimento? La squadra può fare grandi cose quest'anno noi siamo convinti giornata dopo giornata noi mettiamo tutto in campo i ragazzi siamo uniti i ragazzi sono forti puntiamo il palto possibile ecco Io ti ringrazio Lomonaco e ti faccio i miei complimenti e buona fortuna per i prossimi match Grazie ancora